Amici di Visione TV, vi parlo da Samarkand, una città che in questo momento sta accogliendo il Presidente della Repubblica Francese Macron e quindi accoglie con tutti gli onori la Francia. Noi però siamo qui perché c'è un evento che è stato organizzato moltissimo da un ambiente italiano. Parlo del Forum Eurasiatico che si tiene da 16 anni, le prime 14 edizioni si sono tenute sempre a Verona, l'anno scorso a Baku in Azerbaijan, quest'anno qui a Samarkand in Uzbekistan. Cos'è il Forum Eurasiatico? È un grande incontro internazionale che cerca di costruire le basi di un commercio e di una conoscenza reciproca del grande business dell'Italia, dell'Europa e di tutto il mondo eurasiatico. Parliamo quindi di Cina, di Russia, delle repubbliche centroasiatiche, dell'India eccetera. Quelle che sono state egemonizzate negli ultimi anni nel grande progetto delle vie della seta, delle nuove vie della seta, della Belt and Road Initiative cinese. Eppure non è una cosa soltanto cinese questa della via della seta, di cui Samarkand è stata uno dei punti più importanti nella vecchia via della seta, quella che aveva fatto grandi anche Genova e Venezia quando sono diventate quelle che sono, proprio grazie ai commerci con l'Eurasia. La nuova via della seta ha una base importantissima a Samarkand, ma in tutta quest'area che è fondamentale, che bisogna conoscere, che bisogna raggiungere. I francesi si stanno muovendo per tempo al solito modo loro. Cioè da un lato fanno di tutto per portare avanti un'agenda come quella delle sanzioni, che vuole impedire alla Russia di avere relazioni con l'Europa, dall'altra non possono rinunciare a questi traffici e cercano anche di rubare, di rubacchiare qualche spazio all'Italia. Qua c'è una parte delle classi dirigenti diffuse, italiane, non parlo certo del livello istituzionale, che è consapevole che qui si gioca una partita fondamentale. Il mondo si sta spostando moltissimo in questa direzione. Pensate proprio al luogo in cui mi trovo. L'Uzbekistan è un paese che negli ultimi due anni ha avuto tassi di crescita del prodotto interno lordo del 6,5 per cento, delle cifre che noi ormai ci immaginiamo soltanto nei sogni più proibiti, perché l'Italia da molti anni vive un declino profondo e un'incapacità di intercettare l'innovazione, i nuovi traffici economici. E qui è fondamentale perciò costruire delle relazioni nuove. Bisogna raccontarla questa vicenda. Nei prossimi giorni si svolgerà il forum con ospiti straordinari, a molti dei quali è stato impedito di venire in Italia. Questa è proprio una delle tante forme di autolesionismo dell'Europa, che invece sono importanti proprio per capire i potenziali sviluppi per un mondo che verrà dopo le sanzioni, che intanto c'è, intanto si sviluppa ed è il centro di un nuovo mondo. Noi la racconteremo, questa vicenda la racconteremo da molto vicino. Vi posso dire una prima impressione. C'è poca Cina e molta Russia in questo forum, c'è poca geopolitica, quindi poche considerazioni militari e molto business, molti affari. Questo serve anche a rompere certi luoghi comuni che hanno portato a delle rinunce nelle quali abbiamo soltanto perso. La tendenza, ad esempio, del governo Meloni a rinunciare agli accordi sulla nuova via della seta è una forma l'ennesima di autolesionismo del nostro paese. Quindi invece dobbiamo costruire questo rapporto nuovo e dobbiamo farlo sapendo che non c'è solo la Cina. Ci sono tanti paesi, tantissimi paesi che sono proprio quelli che stanno diventando più dinamici nel mondo. È il mondo che esce dal solito perimetro della cosiddetta comunità internazionale che si sta riducendo a essere un occidente vassallo degli Stati Uniti ed è quindi un luogo destinato anche a un certo declino. Alle prossime giornate quindi per raccontare i protagonisti di questa vicenda.